buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è martedì 3 ottobre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno la vediamo qui nella grafica e san gerardo da brogne una località del belgio san gerardo visse nel nono secolo era un monaco benedettino fondò nella sua città un monastero ma si occupò della riforma di molti di molti monasteri delle fiandre e della normandia vi lavorò per circa 20 anni insomma e non è che non incontrò dei contrasti insomma però la sua riforma alla fine venne alla luce questo è san gerardo di brogne un santo molto venerato in modo particolare in belgio vediamo anche le previsioni del tempo ecco la grafica e vediamo che i cieli in prevalenza saranno sereni per tutta la giornata oppure poco nuvolosi la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi i venti moderati al pomeriggio da nord ovest mentre nell'interno da ovest il mare è quasi calmo e vediamo che il sole sorgerà tra poco alle 7.09 e tramonterà alle 18.51 le temperature dicevo si gireranno tra i 24 gradi la massima leggermente diminuita rispetto ai giorni scorsi mentre diminuita sensibilmente la minima 13 gradi insomma siamo pienamente nei valori autunnali ed ora apriamo il giornale sfogliando il resto delle carlino sulla pagina di fano non è la prima volta che il resto del carlino si occupa della croce rossa la croce rossa fanese versa in difficoltà ha un buco di bilancio di circa 250 mila euro e per questo ha dovuto licenziare gli autisti scatenando l'ira del sindacato la will accusa pronti ad azioni legali contro chi dovrebbe essere esempio di lealtà e rispetto a uccello uno dei sindacalisti da anni denunciamo le carenze sulla sicurezza dei mezzi di soccorso e i mancati pagamenti ebbene la croce rossa è commissariata dal mese di agosto scorso ed il sindacato protesta contro il licenziamento dei due autisti siamo pronti alle azioni legali hanno dichiarato anzi lo dichiarano angela ugello e giancarlo urbani della will della funzione pubblica e insomma se la prendono con coloro che dovrebbero dare esempio di lealtà trasparenza onestà e rispetto dei cittadini oltre che dei lavoratori come sindacato hanno detto ci opporremo nelle sedi opportune a tutela dei diritti dei lavoratori e cercando insomma da una parte di assicurare la vivibilità di questa azienda di questa azienda tra virgolette che la croce rossa è qualcosa di più di un'azienda è un sussidio di carattere sociale sanitario estremamente importante e dall'altra però occorre garantire i diritti dei lavoratori speriamo che questa situazione si risolva più presto perché la croce rossa è veramente un sussidio importante importante per tante tante cose dal punto di vista sanitario e anche dal punto di vista sociale veniamo le altre notizie l'apertura nella seconda pagina del resto del carlino è dedicata ad un film un film che in questo momento tratta un argomento che è sulla cresta dell'onda così dobbiamo dire sulla cresta dell'onda del mediterraneo ovvero l'immigrazione è il film di garrone il masetti gremito per la prima di questo film era presente anche il regista tra applausi e amarezza perché un film che lascia l'amaro in gola fa pensare fa riflettere cinema gremito per la proiezione del film che narra l'epopea dei migranti nel mediterraneo tutte le traversie che un emigrante che lascia il suo paese nel cuore dell'africa attraversa per giungere prima sulle coste libiche o tunisine e poi l'attraversamento del mediterraneo questa grande avventura questa grande tragedia questa grande impresa che è un'impresa molto difficile con tanti rischi tante incognite e tante difficoltà dicevo cinema masetti pieno cinque minuti di applausi domenica pomeriggio per la prima di io capitano il film che parla dell'immigrazione africana verso l'europa leone d'argento al festival di venezia e candidato italiano agli oscar per il miglior film straniero veramente tanta tanta gente non è di minore importanza l'articolo sottostante nella seconda pagina del resto del Carlino ieri c'è stata una conferenza stampa da parte dell'assessore al bilancio Sara Cucchiarini insieme all'assessore Etienne Lucarelli e al presidente della commissione bilancio che appartiene al movimento 5 stelle Giovanni Fontana tutti hanno così dato particolari in merito ad una iniziativa ad una delibera approvata nell'ultima seduta del consiglio comunale si tratta del regolamento del bilancio partecipato è una grossa innovazione in merito alla gestione della cosa pubblica di che cosa si tratta si tratta della possibilità dei cittadini di gestire direttamente le risorse dell'amministrazione comunale parte delle risorse al momento si tratta di una cifra che oscilla tra i 100 mila e 200 mila euro ebbene i cittadini potranno avanzare dei loro progetti lo potranno avanzare anche delle associazioni progetti che saranno vagliati da una giuria di 30 cittadini stessi e i quali sceglieranno i progetti migliori li sottoporranno all'amministrazione comunale la quale li finanzierà con le risorse disponibili un massimo di 100 200 mila euro adesso la cifra è da definire potrà essere anche incrementata nei prossimi giorni ebbene questa è stata un'intesa tra il movimento 5 stelle e la coalizione di giunta perché il bilancio partecipato nasce da una mozione che fu presentata nel 2022 dal movimento 5 stelle e poi ha avuto così un corso piuttosto lungo di carattere burocratico incontri valutazioni eccetera insomma prima di arrivare alla seduta di lunedì dell'altra settimana in cui si è approvato il regolamento ora il regolamento è effettivo tra poco uscirà il bando per così costituire questa giuria di cittadini e poi i progetti a partire a dicembre da ottobre a dicembre e poi un mese o due per decidere quali saranno finanziati a Mondavio parte il restyling delle mura storiche partiranno a breve i lavori da 200 mila euro per riparare le crepe le infiltrazioni e togliere anche le erbacce le mura storiche sono un patrimonio culturale e storico di notevole importanza e quindi devono essere manutenute con grande attenzione ad urbino ad urbino parte a una iniziativa interessante che attirerà certamente tanti visitatori in più si tratta del biosalus che animerà la città ducale il 7 e l'8 ottobre prossimo ci sono oltre 400 iniziative che fanno parte di questa manifestazione e a cui partecipano oltre 100 espositori e poi eventi a pioggia sono tanti tanti gli eventi che fanno parte di questa manifestazione e quindi ci saranno diverse location in tutta la città con questi stand, con queste iniziative vediamo anche quello che è accaduto ad Apecchio, campeggia la fotografia di Orietta Berti che ha tenuto un concerto nel nome del tartufo Apecchio fa il pieno di tartufi e di visitatori, una folla veramente grande, il Carlino la definisce immensa proprio tanto per dare l'idea della quantità di persone che sono affluite in questo paesino appenninico, ebbene tanta gente per la mostra a mercato, osterie, premiazioni e mostre prese d'assalto dai turisti 10.000 in tre giornate, insomma 10.000 per Apecchio, sono veramente una quantità importante e poi parliamo dell'immancabile incidente purtroppo del giorno, questa volta siamo tra Urbino e Gadana, appunto una strada pericolosa ebbene sono state coinvolte diverse autovetture, lo scontro è avvenuto, era uno scontro frontale che si è verificato ieri alle 13.45 lungo la strada che collega Gadana a Urbino, tre i feriti, tra cui un minorenne, nessuno comunque grave per fortuna l'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 9 tra una Fiat Multipla che viaggiava in direzione Urbino e una Lancia Ypsilon che scendeva dall'altra parte, non si sa per quale ragione uno ha invaso la corsia dell'altra fatto sta che è avvenuto lo scontro frontale, uno scontro che poteva determinare conseguenze ben più gravi che per fortuna non ci sono state vediamo le pagine pesaresi sul resto del Carlino e vediamo di un fenomeno di cui si è parlato anche nei giorni scorsi quello della violenza sulle donne, è un fenomeno che nella provincia di Pesaro Urbino è particolarmente presente e sembra che si moltiplichino i casi che si feriscono, che lo caratterizzano ebbene vediamo il titolo Maltrattamenti senza tregua, 20 querele in 15 giorni sono 20 donne che hanno denunciato mariti, compagni, fidanzati, anche familiari per i maltrattamenti subiti via da casa, mariti e compagni e questa è un'emergenza sociale senza precedenti nel nostro territorio che viene così definita dalla procura di Pesaro il coraggio di dire basta, i magistrati intervengono tempestivamente per evitare che si arrivi a botte o femminicidi qualche volta basta anche una parola di troppo, un tono aggressivo per suscitare la paura delle donne le quali hanno cominciato veramente a denunciare queste situazioni di visticcio familiari che prima venivano tollerate, adesso invece la donna ha acquisito un carattere più deciso, più forte e quindi afferma la propria autonomia e quindi denuncia però insomma ci sono anche gli effetti controversi, contrari perché ci dicono denuncianti ma poi ci lasciano soli e qui come non menzionare quell'associazione che è stata presentata venerdì scorso a Fano nella chiesa del suffragio con il titolo Alba Rosa una associazione di persone che conoscono il problema che hanno un trascorso passato nelle forze dell'ordine molte delle quali oppure conoscono bene il diritto le quali si mettono a disposizione delle donne per tutelarle in modo particolare in quella parentesi che intercorre tra la denuncia fatta dall'uomo aggressivo e i provenimenti che poi il giudice prescrive è una finestra molto pericolosa in quanto il marito, il compagno e il fidanzato venuto a conoscenza della denuncia può rendersi ancora più aggressivo e forse anche in quella finestra possono accadere ancora violenze, ancora femminicidi e appunto questa associazione si rende disponibile per tutelare le donne proprio in questo momento le accompagna fuori di casa le fa compagnia, le presidia nei momenti più pericolosi e quindi le donne si sentono più sicure ci dicono denunciate ma poi ci lasciano sole per fortuna questo è una cosa che sta per essere superato speriamo che così avvenga veramente giriamo la pagina e vediamo una lettera scritta da un bambino di dieci anni che tutti i giorni va a scuola ma percorre una strada pericolosa allora ha preso il suo quadernino ha scritto una lettera al sindaco Matteo Ricci e gli ha chiesto sindaco rendimi quella strada meno pericolosa tutela la mia sicurezza bambino scrive al sindaco ho paura di quella strada e Ricci ci mette una barriera Giacomo invia la letterina al primo cittadino che la pubblica sui social centinaia di like e commenti positivi ovviamente a questa lettera scusi faccia un salto anche a Trebbia Antico poi ovviamente le cose si moltiplicano perché le situazioni di pericolo ce ne sono tante in tanti punti allora anche altri non dico altri bambini ma altre persone sollecitano il sindaco a correre ai ripari comunque la lettera di Giacomo ha fatto sì che il sindaco disponesse che in quella strada fossero messe altre protezioni in modo da tutelare il percorso in modo particolare dei più piccoli e poi vediamo che c'è stato un momento di tensione durante la cerimonia del premio Frontino Montefeltro premio conferito al dottor Roberto Burioni che è stato presente alla cerimonia ebbene il priore del convento è insorto mentre Burioni parlava sul covid molta gente si è sentita offesa da lei ha detto ci sarebbe voluta più umanità nel trattare questo argomento molto molto delicato aveva detto appunto il priore auto allagate al San Decenzio bonifici già da oggi ma per Monti a fine mese ebbene guardiamo questa fotografia e vediamo il parcheggio sotterraneo del San Decenzio allagato era l'alluvione che si è verificata nei mesi scorsi Pesaro Parcheggi sta per pagare i danni subiti appunto dagli automobilisti lo dice il presidente Antonello delle Noci tutti i proprietari delle 42 auto andate sott'acqua nel parcheggio sotterraneo del San Decenzio avranno presto gli indennizi ma i beneficiari saranno di due tipi 12 proprietari che avevano già un'assicurazione propria per gli eventi atmosferici saranno risarciti a giorni grazie al tipo di assicurazione cosiddetta polizza secondo rischio hanno inoltrato l'Iban e saranno pagati con bonifico già da oggi o domani o comunque in questi giorni quelli invece che non avevano un'assicurazione propria la maggior parte riceveranno una proposta di indennizzo entro il 15 ottobre prossimo se l'accetteranno avranno l'indennizzo proposto entro la fine mese insomma qualcosa si sta muovendo e si è mosso anche il generale Figliuolo che sarà domani a Pesaro per parlare dei danni dell'alluvione è il commissario straordinario alla ricostruzione per l'Emilia Romagna e delle Marche sappiamo come la provincia di Pesaro è rientrata nel stato di emergenza proclamato per l'alluvione che si è verificata nei mesi scorsi vediamo ora quello che sta accadendo in regione dove c'è turbolenza per quanto riguarda una proposta di rimpasto di giunta formulata dalla Lega altro maxio rimpasto la Latini vuole ribaltare la Lega entrano Lucentini e la Acciarri al posto di Antonini e della Biondi Saltamartini resta ma non può perdere la sanità ma può perdere la sanità quindi si tratta di un cambiamento non da poco quello che propone la Latini che insomma è il vertice per quanto riguarda la Lega a livello regionale e ci sono dei contrasti sono state delle voci molto alte nell'ultima riunione adesso spunta la sonoteca la loggetta per ascoltare musica la faremo in via San Francesco via San Francesco la via che unisce la piazza la piazza l'ex piazza delle corriere di Pesaro e piazza del popolo la trovata è di Massimiliano Santini l'idea è che uno passeggia si ferma e sceglie cosa ascoltare un'esperienza tecnologica e artistica il luogo scelto ha bisogno di essere riqualificato si tratta dell'angolo di via San Francesco in cui dovrebbe essere realizzata la sonoteca è proprio l'angolo in cui la via San Francesco sotto i portici sfocia in piazza del popolo e la musica a Pesaro ormai la si sente in tutti gli angoli in tutti i posti e in tutte le salse Palazzo Ricci la fase 2 sarà la casa degli artisti ma lì troveranno spazio anche studenti e sportivi è in arrivo il secondo stralcio dei lavori per la ristrutturazione di questo bel palazzo da chiudere entro il 2026 il vice sindaco Vimini due piani saranno destinati però alle residenze e vediamo anche l'ultima notizia pubblicata sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino ossigeno e lavoro e turismo un milione all'entroterra il progetto integrato locale ha finanziato alcuni comuni sono quattro Mon Baroccio Colli al Metauro Monte Cicardo e Monte Felcino tra gli obiettivi favorire anche l'occupazione ebbene una importante risorsa questa per i comuni dell'entroterra ed ora chiudiamo il resto del Carlino apriamo invece il Corriere Adriatico vediamo l'articolo di apertura parte il waterfront di Sassonia dopo quello di Torrette che è stato presentato nei giorni scorsi proprio nella frazione ebbene c'è stato un incontro anche per il waterfront di Sassonia tra l'assessore lavori pubblici Barbara Brunori e gli operatori che lavorano in zona ebbene ci saranno delle decisioni importanti da prendere perché il waterfront partirà tra una decina di giorni e partiranno poi altri lavori contestualmente ma il momento più critico è quello della sottrazione dei parcheggi per esempio tutta la piazzetta antistante all'anfiteatro Rastat sarà completamente cambiata d'aspetto quindi non ci saranno più i parcheggi tra il cristallo appunto e la concessione di fronte che è quella dei bagni Peppe ebbene parte il waterfront di Sassonia il focus è sull'anfiteatro Rastat è un intervento importante con un investimento di 2 milioni e mezzo è una delle trasformazioni più grosse più rilevanti che verranno eseguite dopo che molti anni fa la Sassonia è stata completamente modificata grazie agli interventi progettati dall'architetto la medica che riqualificò in maniera molto moderna e veneristica tutto il lungomare di Sassonia e anche questa volta si cambia in maniera radicale in maniera determinante ovviamente ci saranno dei disaggi nel corso dei lavori ma alla fine Sassonia avrà un altro aspetto comunque il confronto continua perché poi giovedì prossimo alle ore 18 nella sala assemblea dell'ex laboratorio di biologia marina ci sarà la presentazione ufficiale al pubblico di tutto il progetto e intanto c'è stato questo confronto tra gli operatori i quali vogliono sapere come verranno così recuperati i parcheggi che verranno eliminati vediamo anche una protesta da parte degli autisti del trasporto pubblico per i bus percorsi e ostacoli ci vuole più attenzione è un problema questo che è emerso durante l'ultima manifestazione di Fano Fiorisce Fano Fiorisce ha precluso la transitabilità di via delle rimembranze e di via corridoni mettendo in difficoltà il trasporto pubblico trasporto pubblico che è dovuto caricare e scaricare i passeggeri in modo particolare gli studenti sulla nazionale in un in un punto certo che non è tra i più facili della viabilità fanese ed ecco che insistono insistono gli autisti dicendo lasciate libere queste due strade quando si fa Fano Fiorisce perché non è la prima volta che questo problema si presenta ci vuole più attenzione soprattutto in modo particolare ci vuole più diciamo così una come dire un'attenzione maggiore per i punti più pericolosi della viabilità fanese un altro aspetto che cambia della città è l'arredo di piazza Andrea Costa il Corriere Adriato segue passo passo tutto l'iter burocratico che si sta svolgendo prima di giungere all'inizio di questi lavori e vediamo che c'è un altro round per tentare il recupero c'è un nuovo disciplinare che cambia poco rispetto a quello già approvato sono le stesse condizioni del avviso e siamo in conclusione rapidamente posso leggervi gli ultimi titoli a Colli al Metauro fare rete per l'occupazione il maxiprogetto di quattro comuni di cui abbiamo già parlato Montbaroccio Monteciccardo Montefelcino e Colli al Metauro mentre a Mondolfo chiude l'ultimo supermercato e i cittadini dicono dove andiamo a fare la spesa ebbene anche questo è un problema importante ed era veramente l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti.